e addirittura dopo 23 anni non sanno nemmeno loro come hanno fatto sono ritornati in serie a di chi sto parlando vaiù ripisciaiuola dei pisciaiuoli di salerno la salernitana in serie a ma ripeto chissà come come hanno fatto buon pomeriggio a tutti intanto e ben ritrovati in questo mio nuovo video all'azzurro malato allora 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 ma sicuramente non può farmi piacere questa questa notizia e questa loro promozione in serie a ma vi dico con estrema chiarezza che viene mi viene anche da ridere mi ne darete perché così l'anno prossimo la prossima stagione gli ne daremo non 10 ma 20 20 quindi cari pisciaiuoli saverno cari pisciaiuoli che solo così vi dobbiamo chiamare vi dobbiamo chiamare spero che l'anno prossimo prendiate di tante quelle di pallonate veramente dovete dovete soffrire dovete soffrire dovete prendere tante tante pallonate dal napoli ma intanto siete comunque inferiori al napoli questo è poco ma sicuro vi credete sto cazzo siamo superiori napoli m eccetera 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 parole brutte verso la nostra città verso la squadra vi sentite così tanto superiori ma poi non siete nemmeno le nostre palle cari pisciaiuoli non siete nemmeno le nostre palle e i nostri genitali per essere più più garbato possibile quindi ormai siete in serie a l'anno prossimo riandate di nuovo riandrete in in serie b spero che vi riportiamo noi e niente ragazzi volevo esprimere il mio parere per quanto riguarda questa promozione in a dopo 23 anni i pisciaiuoli i pisciaiuoli chiamo pisciaiuoli perché sono gente gente grizza e gente gente che vale sotto zero gente che non vale nulla non vale assolutamente nulla gente sgorbutica ma noi non dobbiamo nulla avere a che fare ragazzi con questi qua con questi qua volevo soltanto esprimere il mio parere per quanto riguarda l'oro questa loro promozione ma tanto non vi frusciate non vi frusciate l'anno prossimo ne vedremo delle belle ne vedremo delle delle belle tanto tanto ripeto riandrete in serie b e spero che vi daremo tante di quelle frustrate frustate tante di quelle pallonate che dovete soffrire dovete piangere e spero che proprio un avla vi porta in serie b vediamo vediamo l'anno prossimo vediamo l'anno prossimo è bravo pisciaiuoli è bravo è bravo ragazzi lasciate un bel like a questo video mi raccomando condividete e se non siete ancora iscritti iscrivetevi complimenti anche all'empoli per la promozione in serie a dopo dopo anni e niente a più presto al più presto per un nuovo video ciao ragazzi